Allora Massimo, oltre le nottate passate in giro, come hai visto questa mattina questa vigna così cresciuta? Beh, sicuramente un'emozione grandissima perché adesso erano otto mesi che mancavo da questo posto, la vigna l'avevamo lasciata piccolissima con queste piantine appena messe ed in questo momento è rigogliosissima, c'è tutta questa vegetazione e fa impressione, abbiamo notato addirittura dei grappoli, ci sono dei piccoli grappoli che cominciano a uscire, quindi la speranza di vedere questo vino l'anno prossimo, quando sarà, ci riempie di gioia, di emozione, insomma abbiamo dato tanto negli ultimi anni per questo progetto e siamo felici e orgogliosi di arrivare in fondo. E a tanti nostri amici che lavorano anche nella viticoltura, là in Piemonte, Liguria e altre zone del nord Italia, tu cosa dici dopo questo vissuto di 4-5 anni impegno con la vigna? A questi viticoltori direi di venire a trovarci, di venire qui a vedere quello che si fa in queste terre vicino all'equatore, dove tutto è diverso, dove non c'è inverno ad esempio, o quasi non c'è inverno, per cui la vegetazione, le piante vegetano in un modo diverso e quindi in fondo hanno da imparare e hanno da venire anche a mettersi un po' direi in gioco, di venire a provare su queste terre, su questi climi a fare fruttare queste piante. E' questa idea, si è emozionante, e' questa idea dello sviluppo, il missionario che si impegna con lo sviluppo, la carità, gli aiuti ai bambini, tutte queste cose. Tu come, quale riflessione hai fatto in questi anni per dire in relazione con i paesi che stanno crescendo dobbiamo fare? Ma in tutti questi anni io mi sono fatto l'idea che la cosa più grande che noi possiamo fare e venire a fare cose come queste, cioè vigne o attività produttive, possiamo venire a insegnare a loro, ad aiutare queste gente a crescere in uno sviluppo. Questo sviluppo agricolo, ad esempio, e' una cosa secondo me grande, perché non e' il solito sviluppo turistico, ma porta altro sviluppo, porta crescita di questa gente. E mi sembra che la gente reagisca molto bene a questa cosa, mi sembra che la popolazione locale sia molto attratta e interessata. Cari amici, vivere la carità oggi, vivere l'aiuto alla missione, non e' solo carità così semplice to cure, ma creare lo sviluppo, offrire possibilità di sviluppo al popolo. Andiamo avanti sempre con fiducia! Grazie a tutti!